Musica Ben ritrovati nella cucina di casa Paturzo Quest'oggi con me c'è un ospite d'eccezione Il conte Alfredino Dracula E siamo in vena di scherzi Così come si fa per festeggiare Halloween Infatti quest'oggi faremo proprio un menù per la festa di Halloween Che contrariamente a come si può immaginare non è un'americanata Perché non nasce in America Si è sviluppato molto in America Ma nasce in Irlanda tantissimi anni fa Ed è un'usanza celtica di origine celtica Cosa si festeggiava? La vigilia di tutti i santi Così come si festeggia nella nostra religione Come si faceva? I contadini prendevano le zucche E preparavano tanti piatti, dolcetti e anche altri piatti Proprio per festeggiare la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno Perché si accendevano le lanterne Alfredino? Tu lo sai perché si accendevano le luci? Si accendevano le luci per fare in modo che gli spiriti Potessero venire fuori alle case Dove le persone preparavano tante cose buone per gli spiriti Per fare in modo che essi li potessero proteggere senza fare scherzetti Andiamo quindi a realizzare il nostro primo piatto di quest'oggi Faremo delle simpaticissime mummiette Alfredino E faremo poi delle zucchette ripiene Facili, facili, facili Allora, ci serviranno della pasta sfoglia Della pasta cresciuta Dei brustel Formaggio a fette, prosciutto a fette E un uovo per andare poi ad abbellire i nostri lavori La prima cosa da fare è andare a fare le mummiette La facciamo con la pasta cresciuta e con i brustel Certo che puoi farlo tu a mamma Vai, stendi questa mamma, vai, stendi Stendi, stendi Vai con il matterello, hai ragione, hai ragione, prego E adesso andiamo a fare delle striscette Eccole qui, guarda Questo lo togliamo perché è irregolare Eccole qui Per fare le nostre mummie di brussel Come sono a mamma le mummie di brussel? Buone Buonissime Buonissime I brusseli sono buonissimi Eh sì Adesso Alfredino la pasta in brussel Ecco qui E andiamo a rotolare La pasta cresciuta come fossero le bende delle mummie Così Andiamo poi a fare il cappelletto sopra Cos'è il cappelletto? La parte di sopra mamma Andiamo a fare la benda che copre la testa della nostra mummia Ecco qui Che mostruosa Vai, la vuoi fare anche tu? Sì Vai Sì Grazie a tutti. Guardate che bravo Alfredino, sei stato bravissimo! Fatelo fare ai vostri bimbi, ci divertiranno e impareranno anche la manualità. Ecco le nostre nummiette pronte per essere infornate, andiamo a fare anche le zucchette e inforneremo tutti insieme. Prendiamo la pasta sfoglia, la compriamo già fatta, così facciamo prima. Eccola qui a mamma. Io ho già la formina di una zucca, altrimenti la potrei disegnare, ritagliare e poi la tagliare stesso con il coltello. Allora, andiamo a fare tutte le formine di zucca. Posso fare io? Certo, vai! Adesso prendiamo il formaggio, io ho preso delle fette di Edammer già fatte, vedete sono così belle sottili. E una fetta di prosciutto. Stesso con la formina, andiamo a ricavare le zucchette. E mettiamole, eccole qui, sulla nostra pasta sfoglia. Ora ricopriamo con un'altra zucchetta, dove però andiamo a fare gli occhi e la bocca. Gli occhi saranno dei triangolini. Ecco la nostra zucchetta, so che siete capaci di farne di più belle. La andiamo a sovrapporre. Ecco qui, alla pasta sfoglia con il ripieno. Chiudiamo nei bordi, arrotondando un pochino. Ed eccola qui, pronta per andare in forno. Abbiamo terminato le nostre zucchette. Guardate come sono venute carine. Bellissime! Bellissime! Adesso, per ravvivare un po' sia la pasta cresciuta che la pasta sfoglia, ci passiamo con un pennellino, un po' di uovo sbattuto. Così verranno più colorate in forno. Sì, sì! Certo! Vai! Eh sì! Eh sì, è bella, è bella! Sì! Zucchette e mummiette sono pronte per andare in forno. Ecco le nostre mummiette e zucchette. Per realizzare mummiette e zucchette ci serviranno 7 wustel, 300 g di pasta cresciuta, un rotolo di pasta sfoglia, 100 g di fette sottile di edamer, 100 g di prosciutto. Grazie a tutti!